Oggi è una giornata fredda ma limpida, qui a Bonate Sopra, vicino a Bergamo. I volatili guardano fuori dalle voliere. Il desiderio di spiccare il volo deve essere fortissimo. Ma non tutti gli ospiti di questo centro di riabilitazione potranno farlo mai più. In questo centro WWF si rischia il tutto esaurito. Ferite gravi, a volte gravissime, causate dai pallini da caccia dei bracconieri, vengono curate. Talvolta è necessario un intervento chirurgico. Sempre più specie protette vengono colpite. Secondo i dati del WWF, rispetto allo scorso anno, gli arrivi dei pazienti feriti da fucilate è aumentato del 35%. Un dato incredibile, visto che qui nelle valli bergamasche la chiusura della caccia è stata anticipata. Ma oggi è anche un giorno molto felice per quei fortunati volatili che si sono ristabiliti completamente e che guadagnano di nuovo la libertà. Per alcuni che se ne vanno, altri arrivano al centro. Una stupida e crudele attività di bracconaggio in un attimo provoca ferite che non sempre guariscono. E lo sguardo stupito di questo gufo appena arrivato sembra chiedersi semplicemente perché.